5 giorni di eventi, dibattiti, iniziative culturali hanno coinvolto la città di Fano nella cornice di Pesaro 2024, nell'ambito del progetto 50x50 capitali al quadrato. Un programma all'insegna dell'economia circolare e della transizione ecologica, tema fondamentale nel processo di innovazione in grado di favorire economie che non tengono conto solo dei profitti economici ma anche della sostenibilità ambientale. Dopo il 5 marzo, giorno in cui si è svolta la serata in anteprima con l'esperto di cambiamenti climatici Fabio Cappa, si sono susseguiti sul palco circa 100 relatori, tra giornalisti, esperti di ambiente e rappresentanti di associazioni e imprese. Sabato mattina, al Teatro della Fortuna di Fano, è stato presentato il rapporto nazionale e regionale sulla transizione ecologica dal titolo Le Marche, il Centro Italia e l'Europa, chi vince, chi perde, alla presenza dei maggiori esperti del settore. Le Marche da questo rapporto escono bene, decisamente bene. Tra le 20 regioni italiane occupano la seconda posizione alle spalle soltanto del Trentino Alto Adige, tra i consumi di energia, alle emissioni dannose per il clima, alla gestione dei rifiuti, mostrano una capacità di interpretare questa sfida in maniera efficace, in maniera positiva e soprattutto mostrano di capire che la transizione ecologica è anche il modo per dare futuro all'economia. Non è soltanto importante per salvare l'ambiente, ma è un'occasione straordinaria per dare più forza alla nostra economia, all'economia del territorio, all'economia anche della tradizione, della manifattura che qui nelle Marche è tanto importante. È una sfida sempre più difficile? È una sfida molto difficile perché il tempo è poco. In particolare la crisi climatica è un problema che bisogna affrontare con molta più forza di quanto si è fatto fino adesso. Abbiamo 10 anni, poco più, per fermare il riscaldamento globale che se invece proseguirà produrrà effetti disastrosi. La direzione, tutti sappiamo quale deve essere, dobbiamo però perseguire il cammino in modo molto più deciso. Presente all'evento, anche uno tra i principali sostenitori di circonomia, Enereco, realtà imprenditoriale fanese impegnata nella transizione ecologica. Riteniamo che una sfida come questa della transizione energetica, della sostenibilità e dell'economia circolare non possa che avere bisogno dell'impulso da parte di tutti, da parte delle istituzioni, delle imprese, dei cittadini, di tutti quanti. Quindi l'informazione, quindi la divulgazione del messaggio, la condivisione degli obiettivi è assolutamente fondamentale. Di conseguenza quando ci è stato chiesto se eravamo interessati, ci è stata presentata questa iniziativa, abbiamo aderito con entusiasmo proprio per cercare di contribuire a creare quel mood, come direbbero appunto gli inglesi, o comunque quella mentalità, quella consapevolezza necessaria al raggiungimento degli obiettivi che una sfida come questa inevitabilmente ci pone, che sono i pocali. E quindi c'è bisogno del contributo di tutto. Protagonisti del festival, anche i più piccoli, che hanno partecipato a laboratori, mostre e presentazioni di libri. Il tema ambientale è fondamentale ed è fondamentale soprattutto per le nuove generazioni, quindi tante iniziative per i bambini. Purtroppo ha piovuto e quindi non le abbiamo potute fare tutto, ma già stiamo ragionando di recuperarle sempre nello spazio Widenhousis. Abbiamo visto un'intera comunità, dalle aziende all'amministrazione, all'università, alle scuole, unirsi con le associazioni del territorio per parlare di temi che sono fondamentali per il futuro. Durante l'incontro, un gruppo di giovani appartenenti al movimento Extinction Rebellion ha fatto improvvisamente irruzione nel Teatro della Fortuna, interrompendo per circa mezz'ora l'evento, creando consensi e polemiche tra il pubblico, con cori, uno striscione e la distribuzione di volantini, ribadendo lo stato di emergenza climatica ed ecologica e chiedendo giustizia sociale. Grazie. 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 Grazie.